No, così non... no, non ce la fai! Ah, sì, te... uh-uh! Guardiano a te! Guardiano a te! Guardiano a terra! Preso. Guardiano a terra! 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 Però, quella sera puoi fare... puoi fare corpo a corpo, eh! Sì, sì, no... Sì, no, ma se ti trovi uno di quei lozoni lì... Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. 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 Vieni, vieni, vieni. 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 Vieni. Vieni, 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 vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. a di là 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 oh era lì porca tra mea era lì porca tra mea c'è 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 la c'è 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 mi sa che mi sa che dobbiamo andare al centro è al centro ragazzi è al centro aspetta proviamo perché non vorrei che apri la pancia e ti stira giù ah allora la fa dopo è lì c'è ancora una pala ah la staggando si era essa ah ok ah ok la staggando andato andato grandi ragazzi no no basta sparargli come rispari adesso è preso no no ragazzi mi raccomando non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta no no no, caricate il cecchino, tutti e quattro col cecchino, tutti e tutti col cecchino tutti col cecchino, dateli, 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 dateli è andato, si, gradi mi reanimi qua? ah, ok come out, fucile impulsi grandi ragazzi grazie 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 grazie